Pastore tedesco scappato da casa, annotato dai carabinieri mentre vagava lungo la strada provinciale, è accaduto in mattinata a Riese Pio X che Atos, questo il nome dell'animale, fosse disorientato e impaurito, è stato subito evidente a una pattuglia dell'arma che transitava di lì in quel momento. I due giovani militari si sono subito fermati capendo che il cane era fuori dal suo ambiente e in effetti il pastore tedesco si era allontanato poco prima da un'abitazione privata dove sono in corso dei lavori. L'animale, approfittando del via vai dal cancello di alcuni operai, è sgattaiolato fuori portandosi nella zona, non certo priva di pericoli, della provinciale. I due carabinieri sono riusciti ad avvicinare il cane e con un guinzaglio di fortuna l'hanno condotto in sicurezza nel vicino parco della poesia dedicato ad Andrea Zanzotto. Rintracciata, la giovane proprietaria, che stava già disperatamente cercando il suo amico a quattro zampe, ha potuto così recuperare e riabbracciare Atos.